In questo primo esercizio lavoriamo sulla formula della composizione galileiana delle velocità. La formula della composizione delle velocità afferma che U uguale U' più V, dove U è la velocità di un punto P studiata dall'osservatore O, chiamiamolo l'osservatore fisso. U' è la velocità del punto P rispetto ad un osservatore mobile, V' è la velocità dell'osservatore mobile rispetto a quello fisso, di O' rispetto ad O. Alla luce di questo esaminiamo l'esercizio. Due treni A e B viaggiano su binari paralleli in verso opposto. Questo per noi sarà il treno A e questo sarà il treno B. Il treno A viaggia alla velocità di 100 km all'ora rispetto al suolo e il treno B viaggia alla velocità di 190 km all'ora rispetto ad A. Calcola la velocità del treno B rispetto al suolo. Come sempre, quando si inizia ad affrontare un problema di questo tipo, bisogna chiarire quali sono gli attori del problema, che ricordiamo sono sempre tre. L'osservatore O, quello solidale con il suolo, l'osservatore O' quello mobile e il punto P, quello che viene da entrambi studiato. Vediamo di capire quale ruolo giocano i treni A e B in questo esercizio. Intanto sappiamo che il treno A viaggia a 100 km all'ora rispetto al suolo. Devo presumere verso destra. Quindi questo viaggia alla velocità rispetto al suolo di 100 km all'ora. Mentre il treno B viaggia a 190 km all'ora rispetto ad A. Allora abbiamo già l'introduzione dei due osservatori. L'osservatore O è quello che si trova al suolo. L'osservatore O' è quello che si trova sul treno A. Difatti noi abbiamo la velocità di B rispetto ad A. Quindi il punto P, quello che da entrambi è studiato, è il treno B. Quindi A, l'osservatore A, è anche l'osservatore mobile, chiamiamolo O'. Mentre l'osservatore fisso è fermo al suolo con i suoi assi cartesiani XY. Mentre O' ha due assi cartesiani X' Y' che si muovono solidali con il treno A. Entrambi vengono a studiare il moto del treno B, cioè del punto P. Intanto osserviamo una cosa, che normalmente la relazione di composizione delle velocità è una relazione vettoriale. Ma se ci troviamo su moti rettilinei, moti sulla stessa direzione, possiamo benissimo riscrivere questa relazione nella forma U uguale U' più V, tenendo conto che a questo punto il verso di movimento è rappresentato dal segno. Dunque, vediamo quali sono i dati forniti. Il treno A viaggia 100 km all'ora rispetto al suolo. Questo 100 km all'ora non è altro se non la velocità dell'osservatore mobile rispetto a quello fisso. Quindi è la velocità di trascinamento V è più 100 km all'ora. Guardate come è orientato l'asse X dell'osservatore fisso. E il treno B viaggia 190 km all'ora rispetto ad A. Quindi questa è la velocità del punto P rispetto all'osservatore mobile, quella che noi chiamiamo U'. Attenzione però, il treno B si sta muovendo in verso opposto all'asse X' dell'osservatore mobile, quindi la velocità U' non è 190, ma è meno 190 km all'ora. E la richiesta è calcola la velocità del treno B rispetto al suolo, la velocità quindi del punto P rispetto al suolo, quella che si indica con U. Fatta questa semplice premessa, siamo a posto. La trasformazione delle velocità ci dice che U è uguale U' più V. U' lo conosco, è meno 190 km all'ora. V' lo conosco, è più 100 km all'ora. Ed ecco il risultato. Rispetto al suolo, il treno B si muove alla velocità di meno 90 km all'ora. Ed è giusto perché tutti noi abbiamo la sensazione che quando ti trovi su un treno che sta viaggiando a una elevata velocità e ne incroci un altro che sta venendo verso di te, la sensazione è che l'altro treno viaggi velocissimo e quindi se rispetto al suolo il treno B viaggia a 90, dal punto di vista dell'osservatore mobile, gli sembra che nell'incrocio fra i due treni, questo effettivamente viaggia a 190 km all'ora. Altro esercizio, situazione analoga. Questa volta i due treni A e B viaggiano su dei binari paralleli, ma nello stesso verso. Il treno A viaggia a 100 km all'ora rispetto al suolo, come prima, e il treno B ha 30 km all'ora rispetto ad A. Dobbiamo calcolare la velocità del treno B rispetto al suolo. Allora, solite osservazioni. Possiamo intanto dire che la formula di composizione delle velocità quando ci troviamo su di una retta può essere scritta in forma scalare tenendo conto del segno delle velocità, che i due osservatori sono nuovamente l'osservatore mobile è quello che si trova sul treno A, che porta con sé gli assi cartesiani X' e Y', e si chiama osservatore O', mentre l'osservatore fisso è quello al suolo, con i suoi assi cartesiani X, Y, e questo è appunto l'osservatore O. Entrambi, l'osservatore O' e l'osservatore A, studiano il treno cosiddetto B, che rappresenta per loro il punto B che entrambi stanno studiando. Dunque, i dati sono facili da interpretare. I 100 km all'ora sono la velocità del treno A rispetto al suolo, cioè dell'osservatore O' rispetto al suolo, quindi 100 km all'ora, e la velocità di trascinamento, quella dell'osservatore mobile rispetto a quello fisso. L'abbiamo indicata con V, e notiamo che bisogna mantenere il segno positivo, perché il treno A, dunque l'osservatore O', si muove nel verso positivo dell'asse delle X, dell'osservatore fisso. Poi sappiamo che il treno B viaggia a 30 km all'ora rispetto ad A. Quindi questa è la velocità del punto P rispetto all'osservatore mobile, quella che si chiama U'. In questo caso, il moto del treno B è concorde con l'orientamento dell'asse X', e dunque possiamo scrivere che la velocità è più 30 km all'ora. Dunque, quale sarà la velocità del treno B, cioè del punto osservato rispetto all'osservatore fisso? La sua velocità si chiamerà U, e per le trasformazioni galileiane sarà data da U' più V, quindi in questo caso 130 km all'ora. Ancora un esercizio sulla composizione delle velocità. Si parla di Giulia, che sta correndo verso destra alla velocità di 5 metri al secondo. Mi fermo un attimo subito. Bisognerebbe sempre dire rispetto a che cosa, ma credo sia evidente che la velocità di Giulia viene valutata da un osservatore esterno, quindi un osservatore fisso, dunque l'osservatore O si trova al suolo, con i suoi assi XY, e giudica la velocità di Giulia pari a 5 metri al secondo. Due suoi amici fermi sulla strada lanciano verso di lei le palle 1 e 2 con una velocità di 10 metri al secondo, come mostrato in figura. Anche in questo caso non viene detto nulla. 10 metri al secondo rispetto a chi? Devo immaginare che siccome sono fermi sulla strada, queste velocità di 10 metri al secondo siano valutate rispetto al suolo. Tant'è vero che la domanda è se conto Giulia qual è la velocità delle due palle? Dunque abbiamo capito che Giulia rappresenta l'osservatore O' in moto con i suoi asse cartesiani X' Y' mentre le due palle 1 e 2 sono i due oggetti che entrambi studiano. Potremmo dividere appunto l'esercizio prima studiando qual è la velocità della palla 1 rispetto a Giulia e poi della palla 2. Allora, riepilogando, se stiamo studiando solo la palla 1, allora aspettate un attimo, vi cancello perché non voglio vederla nel disegno, la palla 2. Allora, in questo caso, la palla 1 è il punto P che viene studiata da Giulia e dall'osservatore fisso. Allora, cosa ci dicono questi numeri? Ci dicono che Giulia, osservatore mobile, si muove a 5 metri al secondo rispetto al suolo, cioè rispetto all'osservatore fisso. vuol dire che 5 metri al secondo è la velocità di trascinamento di un sistema rispetto all'altro e siccome Giulia si muove a destra in maniera concorda con l'asse delle X dell'osservatore fisso, io assegnerò un segno positivo alla sua velocità. La palla P si muove a 10 metri al secondo, presumo, rispetto al suolo. Quindi, devo dire che questa è la velocità dell'oggetto studiato rispetto al suolo, quella che noi chiamiamo con U. E siccome il movimento di questo oggetto è concorde con l'asse delle X, devo dedurre che devo indicarla con il segno più 10 metri al secondo. Dunque, la domanda è qual è la velocità della palla 1 rispetto a Giulia? Beh, quella che mi viene chiesto è U' e come in precedenza possiamo trascurare l'aspetto vettoriale in queste situazioni quando il moto avviene nella stessa direzione facendo attenzione naturalmente ai segni delle velocità. Dice la formula inversa che U' è uguale a U-V quindi 10 metri al secondo meno 5 metri al secondo cioè 5 metri al secondo. secondo Giulia la palla 1 si muove rispetto a lei alla velocità di 5 metri al secondo ed è un'informazione che possiamo facilmente intuire è un po' la stessa situazione è un po' la stessa situazione che viviamo quando essendo in automobile come osservatori mobili veniamo superati da un'altra auto che viaggia più veloce di noi e se come in questo caso noi ci muoviamo ai 5 e chi ci supera si muove ai 10 sembra che rispetto a noi si muova soltanto ai 5 metri al secondo. ovviamente il problema si ribalta nel momento in cui vado a studiare il moto della palla 2 allora andiamo a riproporre la palla 2 cancelliamo quella 1 perché adesso il punto P diventa la palla 2 mentre tutto il resto rimane invariato che cosa cambia nel nostro ragionamento la velocità di Giulia rispetto al suolo è sempre questa ma la velocità della palla 2 rispetto al suolo non è più 10 ma è meno 10 perché in questa situazione la palla 2 si sta muovendo in verso opposto a x nuovamente mi viene chiesto di calcolare la velocità della palla 2 rispetto a Giulia prima di farlo andiamo per intuizione quando io sono su un'auto che si muove e ne incrocio una che viene verso di me mi sembra vada velocissima perché le nostre velocità si sommano quindi presumo che Giulia vedrà la seconda palla muoversi ai 15 metri al secondo vediamo se è vero nuovamente noi vogliamo sapere la velocità di P rispetto a Giulia quindi quella che si chiama u primo u primo scusate u primo uguale u meno v ovvero andando a sostituire meno 10 metri al secondo meno v quindi meno 5 metri al secondo e fa meno 15 quindi quei 15 metri al secondo che presupponevo con un'osservazione il segno meno perché rispetto al orientamento dell'asse delle x che Giulia trasporta solidale con sé la palla P si muove in senso opposto questa volta abbiamo a che fare con un esercizio che richiede una soluzione vettoriale si parla infatti di Carla che colta di sorpresa da un intenso temporale mentre a passeggio corre con il suo ombrello verso la fermata del tram alla velocità di 3 metri al secondo se le gocce di pioggia cardono verticalmente con una velocità costante di 10 metri al secondo di quanti gradi rispetto alla verticale deve inclinare l'ombrello per non bagnarsi ancora una volta una composizione di velocità u uguale u primo più v ma questa volta dobbiamo di nuovo riflettere su chi svolge il ruolo dell'osservatore O chi svolge il ruolo dell'osservatore O primo e che cos'è l'oggetto osservato sicuramente noi sappiamo che Carla si muove verso la fermata del tram alla velocità di 3 metri al secondo non si dice rispetto a chi ma evidentemente rispetto al suolo dunque c'è un osservatore O che è fermo rispetto al suolo potremmo dire alla fermata del tram comunque è un osservatore fermo le gocce di pioggia accadono verticalmente con una velocità di 10 metri al secondo rispetto a chi non lo dice ma c'è da pensare che sia rispetto al suolo tant'è vero che la domanda riguarda l'inclinazione dell'ombrello quindi in un certo senso con che velocità Giulia scusate Carla vede muoversi le gocce di pioggia rispetto a sé quindi Carla è l'osservatrice in movimento mentre la pioggia è ciò che viene studiato tanto dal suolo come da Carla detto questo dunque i 3 metri al secondo velocità di Carla rispetto al suolo non sono altro che la velocità dell'osservatore mobile rispetto a quello fisso quindi quella che noi chiamiamo V quindi V come modulo è 3 metri al secondo stavolta non ce la possiamo cavare con una semplice indicazione scalare bisogna anche ragionare e lo faremo dopo sulle direzioni sui versi quindi dal punto di vista vettoriale le gocce di pioggia cadono verticalmente a 10 metri al secondo rispetto a chi? presumibilmente rispetto al suolo quindi questo è U un vettore di modulo 10 metri al secondo e la domanda riguarda di quanti gradi bisogna inclinare l'ombrello ovviamente bisogna inclinarlo in senso opposto a quello di caduta della pioggia quindi la domanda sostanzialmente ci chiede di ricavare U' tanto come modulo come direzione e quindi anche come verso aggiungiamo altre informazioni dunque la pioggia scende alla velocità di 10 metri al secondo verticalmente quindi facciamo 5 quadretti 3, 4, 5 così questa è la pioggia indicata in tutte le sue con tutte le sue informazioni modulo direzione verso Carla si muove beh facciamola muovere verso destra nel senso di orientamento tradizionale convenzionale dell'asse delle X si muove a 3 metri al secondo quindi sono un quadretto e mezzo verso destra e noi vogliamo conoscere U' Allora scusate avevo dimenticato in questo punto l'apice se noi vogliamo U' partendo proprio dalla formula della composizione delle velocità possiamo scrivere che U' come vettore è uguale a U come vettore meno V quindi dobbiamo fare la differenza fra due vettori vi ricordo è una banalità scusate che fare la differenza di due vettori vuol dire fare la somma punta coda di un vettore con l'opposto dell'altro e quindi io devo rappresentare il vettore U allora il vettore U sarà un vettore verticale di 5 quadretti e sulla punta di U bisogna mettere il vettore meno V cioè un vettore di un quadretto e mezzo meno V in questo modo ho svolto il calcolo della differenza U meno V e il vettore risultante che vi disegnerò in nero avrà questo orientamento e sarà esattamente l'U' che stiamo cercando quindi osservando la rappresentazione possiamo intanto calcolare il modulo di U' cioè rispetto a Carla le gocce di pioggia cadono con una velocità che è il modulo di U al quadrato più il modulo di meno V al quadrato U era 10 quindi abbiamo 100 metri quadri sul secondo quadro V era di 3 quindi abbiamo 9 metri quadri sul secondo quadro ovviamente tutto sotto radice e quindi la radice quadrata di 109 fa 10,44 questa è la velocità delle gocce di pioggia rispetto a Carla e l'angolo l'angolo formato chiamiamolo teta beh ragionando su questo triangolo rettangolo possiamo dire che teta è l'arco la cui tangente vale il modulo di meno V diviso il modulo di U quindi l'arco la cui tangente vale 3 decimi ed andando a fare il calcolo tangente alla meno 1 di 3 decimi mi dà come risultato 16,7 gradi che il testo a rotonda ha 17 17